Giuseppe Conte fa il punto della situazione sui lavori per la formazione del nuovo governo. Oggi ai responsabili politici viene chiesto di rimanere esclusivamente concentrati sul perseguimento del bene comune, di rimanere esclusivamente concentrati sui problemi che impediscono ai cittadini di avere una qualità di vita migliore e alle imprese di crescere ed espandersi. I cittadini ci chiedono di non distrarci, di non far finta di perseguire interessi generali mentre invece si coltivano interessi particolari. Con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, con le altre forze politiche che hanno espresso il proprio sostegno al governo abbiamo oggi una grande opportunità, migliorare l'Italia, fare il bene del Paese. Abbiamo l'occasione per una nuova stagione riformatrice. Siamo in una fase cruciale. Se l'affrontiamo con consapevolezza e determinazione potremo disegnare una società diversa, migliore. Le condizioni sono catastrofiche a Gran Bahama, parte dell'isola e sott'acqua. Lo afferma Quasi Thompson, ministro responsabile di Gran Bahama per il governo delle Bahamas, riferendo dei danni provocati dall'uragano Dorian. Le abitazioni danneggiate o distrutte sarebbero almeno 13.000, come riferito dalla Croce Rossa, che spiega di non avere un quadro completo di ciò che è accaduto. Iniziano lunedì 2 settembre i controlli sull'osonomalo di contanti da parte della UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria incardinata presso la Banca d'Italia. La misura, disciplinata dalla riforma del 2017, prevede l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti di importo uguale o superiori ai 10.000 euro, avvenuti nell'arco di un mese presso banche, poste e istituti di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire anche se il tetto massimo viene superato attraverso più operazioni, pari o superiori ai 1.000 euro. Il primo invio riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Nel terzo trimestre l'economia italiana appare ancora debole, dopo che nel secondo il PIL era risultato piatto. Accanto alla conferma di alcuni segnali di miglioramento, infatti, perdura una lunga serie di dati negativi, che riflettono anche uno scenario globale non brillante e con rischi a ribasso. È quanto evidenzia il Centro Studi di Confindustria nel rapporto con Giuntura Flash, che parla di economia italiana ferma. Continua la dinamica negativa nell'industria italiana. L'indice PMI, Purchasing Manager Syntax, segnala flessione dell'attività nei mesi estivi.